Siamo nello stand di Camera di Commercio, siamo con Alessio Stefanoni e siamo qua per parlare di giovani, di imprese, quindi siamo nel posto giusto. Assolutamente, Cenea Torino ha tra i propri obiettivi importantissimi per i prossimi anni lavorare in modo organico e strutturale sul tema della trasmissione d'impresa. Si fa un gran parlare di start-up e spesso però le start-up sono delle creature che nascono all'interno di luoghi un po' freddi, algidi come gli incubatori. Va bene, non c'è nulla da dire, ma ci dimentichiamo che ogni anno in provincia di Torino o come la vogliamo chiamare oggi città metropolitana, migliaia di aziende cessano l'attività perché non hanno un erede per la trasmissione. Questo è un problema drammatico perché dietro ogni azienda che chiude spesso ci sono dipendenti, ci sono quote di mercato, ci sono contenuti di innovazione che vanno persi. Allora perché non accettare la provocazione che ha lanciato già in alcune occasioni il nostro presidente provinciale Nicola Scarlatelli? Cioè quella di dire ma consideriamo come potenziali start-up anche o comunque luoghi nei quali possano nascere nuovi progetti di impresa anche le imprese già esistenti. In modo tale quando ci si occupa di botanica o ci si occupa in qualche modo di essere viventi il tema della generatività è un tema strategico. Allora perché non immaginare che in qualche modo le aziende che già ci sono sul territorio possono essere l'incubatore naturale di nuovi progetti di impresa con un grande vantaggio che tutti i contenuti innovativi, tecnologici, tutto quello che i giovani possono portare come contenuto, come know-how anziché farlo nascere in un luogo freddo come può essere un incubatore partendo spesso da zero possono avvantaggiarsi del fatto di avere già dei muri, di avere della forza lavoro, di avere un'esperienza, di avere quote di mercato. Noi pensiamo che queste possano essere delle start-up di diversa generatività ma assolutamente strategiche per il futuro del territorio. Eviteremmo di perdere migliaia di posti di lavoro ma soprattutto quote di mercato in un mercato internazionale sempre più competitivo che non dà spazi. L'altra provocazione è questa, le start-up così come normalmente le andiamo a definire, quelle che nascono all'interno degli incubatori sono delle realtà estremamente interessanti però nel loro decorso spesso portano avanti un progetto diciamo evolutivo che le allontana drammaticamente dal territorio in cui nascono perché la start-up cresce intorno ad un'idea, un'idea forte, un'idea innovativa ma per crescere utilizza spesso capitali internazionali e non c'è nulla di male. Però cosa succede? Che dopo poco tempo la start-up arriva ad un punto di maturazione in cui il cui unico obiettivo è quella di rimetterla sul mercato e di venderla a qualcuno per capitalizzare. Questa cosa fa sì che nella maggior parte dei casi le idee innovative diventano proprietà straniera, diventano una proprietà che esce da quel territorio che l'ha fatta nascere e questo è un impoverimento del territorio che ci sembra francamente non ci possiamo più permettere in una Torino e in un Piemonte che continuano a cedere quote di mercato in settori strategici, impoverendo il territorio e privando i giovani di quel futuro a cui invece il mondo dell'artigianato e della piccola impresa vuole davvero dare una continuità. Chi volesse avvicinarsi a questo tipo di iniziativa cosa può fare? Allora, imprenditori tra virgolette maturi, senior, che fossero disponibili ad accogliere giovani con la testa sulle spalle, con idee innovative possono certamente contattare la più grande organizzazione imprenditoriale della città metropolitana di Torino che è la CNA, cercandoci per esempio attraverso il nostro sito internet www.cna-to.it attraverso i nostri canali social, per esempio Chioccio la CNA Torino su Facebook. Beh, è un'ottima idea cercare di prendere imprenditori senior che magari non hanno a chi lasciare la propria attività e cercare qualche nuovo imprenditore o qualcuno che vuole avvicinarsi a quel tipo di attività e praticamente prenderlo sotto l'ala e istruirlo, farlo crescere. Questo è il concetto, giusto? Assolutamente, anche perché le imprese oggi hanno bisogno di crescere sul mercato e stanno già oggi alla ricerca, a prescindere dal tema della trasmissione dell'impresa, sono già alla ricerca oggi di giovani che fanno fatica a trovare, giovani in grado di dominare, padroneggiare le tecnologie digitali, giovani preparati in grado di comunicare in modo fluente in lingua inglese o in lingua tedesca che sono le lingue del commercio internazionale, almeno nel contesto europeo. Quindi assolutamente, noi diciamo, se sei un giovane preparato e hai un'idea innovativa, va bene, guarda anche all'incubatore del Politecnico di Torino, dell'Università di Torino, va bene, ma non dimenticarti che il tuo progetto di impresa potrebbe essere compiutamente incubato all'interno di un'azienda che già esiste, magari dandogli anche una svolta radicale, ma utilizzando risorse che già ci sono e che rischiamo di buttare.